Seconda corsa una prova per cavalli di due anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, uno fotofinish Giovi, Lorenzo Baldi, 3 Fanta Spritz, Antonio Di Nardo, 4 Felsen Firm, Marco Stefani, 5 Fanny Breed, VP dell'Annunziata, 6 Francisco Benal, Francesco Tufano, in seconda fila, 7 Freud Dei Greppi, Gennaro Amitrano, 8 Fabulous Home, Roberto Vecchione. Macchina che accelera una volta entrata in addirittura. E si parte con la velocità da parte di Felsen Firm che cerca di scavalcare fotofinish Giovi e ci riesce all'imbocco della prima curva. Allargo subito Fanny Breed che si presenta, va a chiedere strada e passa a condurre. Dopo 150 metri Fanny Breed al comando, in seconda posizione rimane Felsen Firm, in terza fotofinish Giovi, poi Freud Dei Greppi, di fuori c'è Francisco Benal, poi allo steccato ancora Fabulous Home che precede la sola Fanta Spritz. I 400 metri da parte di Fanny Breed sono andati in 31. La mossa esterna è quella di fotofinish Giovi che anticipa la risalita di Francisco Benal, si porta allo scoperto. Si completano così i 600 metri iniziali che Fanny Breed passa in 47,5. Al passaggio davanti alle tribune Fanny Breed in vantaggio, in seconda posizione è sempre Felsen Firm. Di fuori fotofinish Giovi, poi Francisco Benal in pariglia, la corda Freud Dei Greppi, terza pariglia a largo per Fabulous Home. Uno, due e mezzo per gli 800 metri iniziali. All'avanguardia Fanny Breed, di fuori fotofinish Giovi, alla corda Felsen Firm perde qualche battuta Francisco Benal. Il primo chilometro è passato in 1.17.4. Un Fanny Breed che continua a guidare ma sbaglia e lascia così davanti Foto Finish Giovi. Numero 5 Fanny Breed, squalificato. Terza posizione per Freud Dei Greppi, quindi ancora Francisco Benal e Fabulous Home. Fanta Spritz, l'ha letta opposta alle tribune, passata in 14.4 da Foto Finish Giovi che è in vantaggio, inseguita da Felsen Firm che prova anche a mettere il naso di fuori per un attimo. Foto Finish che continua però ad allungare. Un'altra frazione svelta in 15, in vantaggio Foto Finish Giovi. Felsen Firm che prova ad impensierirla. Foto Finish sempre in vantaggio. Non c'è bisogno del Foto Finish, Lorenzo Baldi vince facile, al secondo Felsen Firm, al terzo posto Freud Dei Greppi. 1.16.1, raguaglio cronometrico con 29.9 a chiudere, preceduto da un 29.3 Foto Finish Giovi. Lorenzo Baldi guida Elena per la scuderia Giovi, una femmina da Varenna e Zazza del Pino che si impone in percorso esterno. In bello stile 2 su 2, in battuta, Foto Finish Giovi, Lorenzo Baldi, la scuderia Giovi. Grazie a tutti.